Il Premier Giuseppe Conte è pronto a riferire in Parlamento sul caso Russia-Lega. Allora è stato chiesto anche a me di riferire, io riferisco perché quando le forze parlamentari chiamano e il Governo risponde, sapete che per trasparenza nei confronti dei cittadini e nei confronti ovviamente dei rappresentanti dei cittadini, ho una concezione sacrale del Parlamento e una concezione sacrale delle istituzioni. Quindi lei riferisce a nome del Governo e il Ministro Saldini può non presentarsi in aula? Il Presidente Conte il giorno 24 riferirà in Parlamento e ci sarà un'informativa. L'ex Vice Presidente di Regione Lombardia ed ex Senatore Mario Mantovani è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione dal Tribunale di Milano. Per lui l'accusa era di turbativa d'asta, corruzione e concussione. L'accusa aveva chiesto una condanna di 7 anni e 5 mesi. Assolto invece per non aver commesso il fatto l'attuale Vice Ministro dell'Economia Massimo Garavaglia. L'esponente della Lega era imputato per turbativa d'asta su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate nel 2014, quando era Assessore Lombardo all'Economia. Migranti rinchiusi in dei container di 15 metri quadrati senza mobili appoggi, letti o cibo da mangiare. È quanto avverrebbe ogni giorno alla frontiera di Mentone in Francia, dove i migranti, in attesa di essere rimpatriati in Italia, verrebbe privata di fatto la libertà. A denunciare la situazione l'ONG francese Medecine du Monde, precisando di essersi rivolta anche alla procura di Nizza. Queste persone vengono bloccate in 15 metri quadrati senza mobili e senza cibo, denuncia l'ONG che ha raccolto varie testimonianze. Un 17enne nigeriano rinchiuso per 10 ore con altri adulti in condizioni orribili con servizi igienici inutilizzabili. 770.000 morti a causa dell'ADS nel 2018. Il rapporto 1-ADS presentato in Sudafrica mostra un numero in calo, ma ancora decisamente alto. Nel mondo 37,4 milioni di persone vivono con l'HIV e le nuove infezioni sono stati 1,7 milioni, una cifra che cala troppo lentamente. I morti sono appena 30.000 in meno rispetto al 2017 e gli obiettivi di miglioramento restano lontani. Intanto si aspetta la sperimentazione di un vaccino che si fonda su una sorta di mosaico di trattamenti di immunizzazione e preventivi che colpiscono vari ceppi del virus. Il via alle vaccinazioni è previsto per la fine dell'anno negli Stati Uniti e in Europa, ma per avere i primi risultati bisognerà aspettare il 2023.